Io ho ovviamente, come ha detto il relatore, avuto degli incontri con Adam, non dico il cognome per non sbagliare la pronuncia, ma credo che siamo molto in linea, ho letto anche il vostro lavoro, il parere, e vedo che c'è una grande coincidenza sia per quanto riguarda la nostra adesione a questa proposta di rafforzamento del meccanismo di protezione civile europeo sia anche per quanto riguarda alcune preoccupazioni che nei vostri emendamenti come nei nostri io penso che siano stati chiariti e siano stati messi, come diciamo, i puntini sulle I per cui molte preoccupazioni dovrebbero rientrare. E mi auguro davvero che ci sarà su questo lavoro un'ampia convergenza dei voti sia qui al vostro comitato sia domani, domani mattina quando voteremo alle 9, nella nostra commissione ambiente. Io ho avuto il privilegio di essere relatrice della protezione civile anche nella scorsa legislatura e ho ritrovato bene o male le stesse preoccupazioni. Ovviamente il principio di sussidiarietà, che è stato anche nel vostro lavoro in cima alle preoccupazioni, lo è stato nella scorsa legislatura per quanto ci riguarda e anche noi l'abbiamo... Io ho accolto tutti gli emendamenti che potevo accogliere, anche qualche volta rischiando di essere un po' ridondante, dove potevo ho accolto l'emendamento che inseriva anche l'importanza esplicitamente delle autorità locali, regionali e così via. Perché ne sono profondamente convinta. La protezione civile funziona soltanto se c'è questo meccanismo dal basso verso l'alto. Non è un caso, io credo che se andiamo a vedere anche le Nazioni Unite, in questa campagna che hanno fatto sulla resilienza dei territori, hanno chiesto ai sindaci di firmare il protocollo, non è che l'hanno chiesto ai ministri, perché sono i sindaci i primi che devono reagire immediatamente. Sappiamo la velocità e la rapidità, è fondamentale, quindi non possiamo aspettare di chiedere aiuto. Però vorrei sottolineare una cosa, perché ho visto ancora qualche resistenza, numericamente ridotta ma abbastanza forte. E mi dispiace, perché dico il principio di sussidiarietà non è che si applica eliminando il livello più alto, ma lasciando che il livello più alto entri come ultima possibilità, nel momento in cui i livelli più bassi hanno espresso il massimo del loro impegno, del loro sforzo, ma ancora non ce la fanno. E noi l'abbiamo visto purtroppo negli anni passati, nonostante quello che abbiamo fatto nella scorsa legislatura sia stato un bel salto di qualità, perché siamo passati dal meccanismo ad hoc a questo meccanismo di pull preimpegnati, seppur in modo volontario da parte degli Stati, abbiamo visto che per esempio negli incendi della scorsa estate sono arrivati prima aeroplani da fuori l'Unione Europea, sono arrivati degli aiuti prima da fuori dai paesi dell'Unione Europea, e questo è un qualche cosa che non va bene ovviamente. Io, rapidamente perché non vi voglio rubare molto tempo, credo che abbiamo fatto un lavoro fatto bene, snello, perché bisogna arrivare velocemente ad un voto. Io mi auguro anche che magari nella prossima legislatura ci sia la possibilità di fare una revisione anche più ampia, perché ci sono tante cose su cui noi possiamo lavorare e migliorare. Mi auguro per esempio che i fondi anche di coesione verranno riprotetti meglio di quanto certi annunci ci facciano temere, perché io penso che noi dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione, sempre più protezione civile vuol dire prevenzione, strumenti finanziari, sburocratizzare, usare meglio quelli in campo, pensarne di nuovi, credo sia tutto un lavoro che ci attende. Sappiamo che abbiamo poi delle sfide, al di là dei cambiamenti climatici, non mi voglio soffermare perché li avete presi in considerazione, ma io sono anche nella Commissione Terrorismo, e proprio oggi abbiamo fatto un incontro approfondito sulle minacce che il terrorismo purtroppo può portare a tutti i nostri paesi sul fronte di attacchi biologici, radiologici, nucleari e chimici. Allora anche questo è un fronte su cui noi non siamo abbastanza preparati e qui anche il meccanismo di protezione civile, proprio gli esperti lo hanno studiato e vedono che su questo c'è molto da fare. Grazie a tutti.